La città soffre e lui deve venire a capo di un dramma di cui è causa inconsapevole. No, 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 questa cosa è veramente interessante, molto interessante. E questa signora era una signora alziate. Ma sì, ma che cavolo c'è? È una bella donna. Tosta! Tosta lei, sì. Lavorato in banca. Ah, i due gemelli! Poi mia madre me l'ha messo in braccio. E io guardavo questa vita che si muoveva. E mi sentiva così inadatta, incapace. È come un figlio lei, una bugiata. Sì, io sono come la roba felice, mi sorgo. No, tu sei come un interruttore, on off e adesso spegniti. Stop! Game movie. Signori, ma voi due? Mi siete mai? Poleg... organisations in jeris in france. Sì, I filli che vengono da giocare in bellissime macanime, delle non man interessate. Heris in france, ma non della